Oltre 4 milioni per le imprese colpite dalla violenta ondata di maltempo che nella notte tra il 27 e il 28 luglio 2019 mise in ginocchio gran parte della Toscana, soprattutto il territorio aretino dove ci fu anche una vittima. La regione toscana ha infatti messo a disposizione delle aziende colpite dall'alluvione 4 milioni e 400 mila euro provenienti dal piano di sviluppo rurale a seguito del decreto del ministero delle politiche agricole con il quale è stato riconosciuto per quell'evento il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale. I comuni interessati sono in tutto 13 di cui 10 in provincia di Arezzo e sono il comune capoluogo Anghiari, Monterchi, Sansepolcro, Monte San Savino, Civitella in Baldichiana, Marciano della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino ed infine Fogliano della Chiana. Le imprese agricole con sede in questi comuni potranno accedere al bando della misura 5.2 del piano di sviluppo rurale della regione toscana che riconosce la copertura del danno subito fino ad un massimo di 200 mila euro, pur che questo rappresenti almeno il 30 per cento del potenziale produttivo dell'impresa. Interventi finanziabili con copertura fino al 100 per cento riguardano tra l'altro il ripristino delle strutture aziendali danneggiate, l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature distrutte e il ripristino degli impianti frutticoli e olivicoli. Il bando sarà pubblicato a breve sul bollettino ufficiale della regione toscana e rimarrà aperto sino alle 13 del prossimo 30 giugno.